I vostri scienziati stanno facendo passi in avanti alla scoperta di anelli di congiunzione tra la fisica fino ad ora esplorata, solo meccanica e immateriale, e quella parte che è sempre fisica ma che si lega ad un ampio spazio esplorativo che congiunge il sapere meccanicistico a quello più vasto, che sconfina nella mistica, nella filosofia e nella spiritualità. C'è un legame che unisce tutto e che va considerato, poiché tutto è unito indissolubilmente ed una cosa spiega l'altra, poiché una è conseguenza dell'altra, tutto è influenzabile perché interdipendente e piano piano questi meccanismi verranno fuori con palese evidenza. I vostri grandi scienziati erano anche filosofi, poiché quando hanno toccato certe vette della conoscenza hanno compreso come tutto sia collegato e come sia inevitabile la captazione di una cosa quando se ne studia un'altra. Capire il senso dell'indeterminazione non è che è un primo passo per trovare ben altro, il primo gradino di una scala che vi porterà a studiare la fisica come si studia un libro sacro. Allora, molte idee si apriranno, molte nuove intuizioni giungeranno a quelle menti che amano la scienza e Dio, poiché saranno pronte a quel salto di qualità che le porterà da una scienza giocattolo, quasi un gioco per bambini, alla grande scienza filosofia delle menti adulte. Voi siete a una svolta in tutti i campi, nella società e nella conoscenza, ma attenti, non fate scelte sbagliate, potreste ritrovarvi nelle selve anziché nella nuova e voluta civiltà delle coscienze illuminate.